3 tool di intelligenza artificiale gratis in questo video il primo tool può trasformare tutto questo audio che sentite da questo a questo audio che sembra professionale proveniente da uno studio podcast da 10.000 euro e invece il secondo tool puoi tranquillamente utilizzare Photoshop con il testo e possiamo portare un'immagine così a così inserendo solo testo, fantastico e il terzo tool, beh, vedete adesso andiamo direttamente al video Adobe Podcast Beta allora, crea degli audio proprio pazzeschi allora, facciamo la prova con il video che devo creare per l'introduzione ok, ho registrato il mio video, che avete appena visto ok, che sta più o meno qui, penso, eccolo qua, no? l'audio non è perfetto ok, quindi adesso andiamo a estrarre l'audio da questo video quindi da QuickTime Player qua sul Mac faccio file, anzi no, sì, file esporta come solo audio andiamo a prendere solo l'audio e chiamiamolo audio da trasformare e mettiamolo sulla scrivania ok e appunto, ecco, l'audio è stato creato ora, questo tool accetta UALV e MP3 quindi io non credo che mi abbia esatto l'audio in uno dei due formati infatti M4A quindi vado su un tool online e scrivo M4A2 MP3 e ci sono dei tool online prendiamo il primo online è gratis scelgo il file andiamo su scrivania audio da trasformare apri lasciamo che faccia il suo un po' pronto ok, converti quindi convertiamo il nostro audio che vogliamo appunto avere ok poi facciamo scarica ok adesso devo per forza per farvi sentire l'audio la differenza a parte l'avete sentita inizialmente però devo un attimo andare su suono qua e utilizzare in uscita siccome il microfono con cui sto registrando il video metto altiparlanti Mac così potete ascoltare il file iniziale ok fa iniziare a questo 3 tool di intelligenza artificiale gratis in questo video il primo tool può trasformare tutto questo audio che ho sentito da questo a questo audio che sembra professionale proveniente da uno studio podcast perfetto, perfetto ce l'abbiamo più o meno no ora andiamo in questo tool che si chiama Adobe Podcast Beta e andiamo a fare l'upload dell'audio su download audio trasformare mp3 apri e voilà lui adesso farà il suo magic con intelligenza artificiale fondamentalmente ci modifica questo audio che è un audio che sentita un po' di rumore un po' con un audio perfetto da podcast ok vediamo insieme a voi quanto ci mette a fare tutto questo qui c'è un sample non so bene quando lo rilasceranno però effettivamente già funziona oh, già fatto ok, vedete molto semplice il file che gli ho dato era di un minuto neanche due minuti ecco quindi ci ha messo veramente poco si è dato un audio più lungo ci mette un po' adesso vediamo come l'ha trasformato ragazzi tre tool di intelligenza artificiale gratis in questo video ragazzi il primo tool può trasformare tutto questo audio che sentite da questo a questo audio che sembra professionale proveniente da uno studio podcast da 10.000 euro ok? e invece il secondo tool puoi tranquillamente utilizzare Photoshop con il testo e possiamo portare ragazzi è pazzesco no? è pazzesco cioè questo è pazzesco quindi prendiamo questo audio lo ricongiungiamo in Final Cut oppure in un editor diciamo video e abbiamo un audio stra-professionale da un audio questo qui ragazzi l'ho ripreso questo audio con il microfono del mio iPhone quindi immaginate quello che si può fare con magari un lavalier oppure un altro microfono più importante riusciamo a creare veramente delle cose pazzesche questo è come se ha levato un po' tutto il fruscio di fondo ha levato l'eco e ha creato una compressione sulla voce professionale ragazzi che dire vi piace questo primo tool? a me tantissimo personalmente perché sono sempre in giro e registro sempre audio con i microfoni un po' di dubbia qualità e questo mi può riportare l'audio ad una qualità veramente veramente buona andiamo al secondo tool che ragazzi ragazzi it's mind freaking blowing stiamo parlando di playground.ai.com eccolo qua allora il sito si presenta così no? uno dice ragazzi è gratis questo tool? cioè non è gratis però avete mille immagini al giorno quindi diciamo sì che è gratis quindi dobbiamo fare get started connetterci con il nostro account ok e voilà ora sono connesso con il mio account e posso andare tranquillamente su create allora perché dico che è un photoshop? perché effettivamente vedete già qui con questo wizard che è uscito quindi carichiamo l'immagine possiamo caricarla tranquillamente facciamo import image ok vediamo qualche immagine da importare possiamo fare ecco dai la mia e la mia immagine che di solito utilizzo in tutti i vari linkedin del caso ok facciamo così pink background poi facciamo generate ok ragazzi uno due tre secondi quattro secondi cinque secondi sette secondi vediamo quanto ci vuole non voglio accelerare così vedete anche i tempi ragazzi che ve lo dico a fare? che ve lo dico a fare? una cosa che veramente mi lascia sbalordito sbalordito non è solo che ha cambiato il background ma ha anche creato i riflessi e la luce guardate il concetto che qua c'è una luce viola e quindi mi ha fatto il riflesso qua viola ragazzi e questo è gratis è gratis tra l'altro qua abbiamo dei parametri poi adesso ce ne andiamo a studiare bene non so pink background mustache è difficile ragazzi perché c'è anche il dito che può in qualche modo essere un po' di come si dice di disturbo però proviamo proviamo non si sa mai non si sa mai cosa ci riserva ragazzi allora posso dire che effettivamente il risultato è molto molto carino che tra l'altro potrei gli occhi me li ha modificati un po' troppo però potete tagliare questa parte qua mettere gli occhi ragazzi è fenomenale fenomenale e voi dite va silvio tutto qui possiamo cambiare fare questo allora andiamo a scaricarci una foto ad esempio di un paesaggio ok scriviamo paesaggio montano ok prendiamo un'immagine a caso prendiamo questa dai senza infami e senza modi la portiamo qua torniamo su playground e poi facciamo cancel import image a t apri o a river in the middle quindi voglio che ci sia un fiume in mezzo generate tan 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 vediamo 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 allora ci sta considerato che questa potete utilizzarla è una foto che è stata creata da questa e potete tranquillamente utilizzarla questa foto è molto diversa è molto diversa se vogliamo però ci sta allora qua effettivamente cominciamo a giocare con questi parametri higher values will make your edited image closer to your instruction ok quindi andiamo e aumentiamo effettivamente il valore per vedere se effettivamente riusciamo a avere un'immagine più simile a questa vediamo vediamo ragazzi questo è tutto un tool da sperimentare io ho fatto un po' di prove e sono rimasto veramente veramente colpito però per esempio con questo non l'ho mai fatto ok ancora non ci piace ancora non ci piace andiamo al massimo vai niente ragazzi allora andiamo al minimo e vediamo quello che genera eh ragazzi a 5.5 già vediamo che è più carina c'è un po' di di due fiumi non è perfetta però pace all'anima già vediamo che è diciamo il risultato non è male allora incominciamo a dire people walking on the grass ok le persone che camminano qua vediamo vediamo quello che genera eh ragazzi non proprio facciamo un altro po' di prove faccio un 9 ragazzi ho considerato che questa levetta qua andatela mettetela avanti e indietro a piacimento finché non c'è qualcosa che ci soddisfi per esempio questa già è carina abbiamo sicuramente delle cose da modificare ci sono persone senza testa per esempio però già già non è male già non è male ok andiamo facciamo un'altra prove adesso qui sono prese così ma non vorrei che l'immagine che gli dà fastidio perché ho fatto altre prove con immagini diverse e le prove mi erano venute molto meglio quando hanno fatto il video va bene cambiamo l'immagine perché veramente anzi andiamo prendere facciamo model model female tanto per farvi capire cosa si può fare cosa si può fare prendiamo questa questa donzella dal bell'aspetto e facciamogli effettivamente una bella tinta gratis solo oggi ma a partire da domani una bella tinta gratis a questa modella la facciamo cancel import image i stock photo apri make blue hair facciamo anche un tributo al caro adriano vediamo vediamo make the dog cat che è successo filter and cannot process your request activate the happy safety filter ma perché si vede che ha prodotto qualcosa di poco make blue hair vediamo è come se avessi attivato un filtro in unità però non so perché interessante sembra più un alieno che blue hair quindi vediamo ah perché sta a 20 ragazzi mettiamo 5.2 generate vediamo che succede eh si ragazzi dobbiamo un attimo giocare andiamo ancora di meno vediamo che succede che poi non l'ho capito bene perché qui dice high values will make your edit image closer to your instruction però io ho semplicemente eh notato che invece è lower values quindi quelli più passi te la crea dobbiamo mettere 1.1 andiamo 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 quindi non ho ben capito questa cosa per me c'è un errorino qua poi io lo chiediamo ok 1.1 no facciamo 2.25 l'abbiamo fatto ok perfetto questo vabbè alcuni erano decenti come risultati un altro trucco è poi mettere per esempio i blue hair sono fantastici però ha modificato anche la faccia mettete questa foto sopra quell'altra in photoshop e poi con la cancellina cancellate solo la faccia molto facile questo da fare senza che ve lo faccio vedere no oppure un altro tool online ce ne sono diversi tool online gratis se no avete photoshop adesso voglio fare un'altra cosa make it oppure make the model black vediamo se riesce a darmi una tinta di pelle nera trasformiamola da make the model black your request activate the API safety filter no ragazzi forse la cosa di gender non va bene qua make it make it sad vediamo se ce la rende triste questa modella no ragazzi neanche triste cambiamola a questo punto non so cambiamo modella tante volte c'è qualche filtro di nudità prendiamo questa dai è tutta coperta e che caspita roba da pazzi allora facciamo cancel ma è bene lo lascio nel video questo così capite che non è così rosa e fiori ci sono i tutorial in cui fanno vedere subito le cose che vanno bene e se le preparano e preferisco così come almeno vedete anche i punti negativi posso anche creare un mask nel senso non voglio che effettivamente ci sia cambi colore a tutto perché come avete visto alcune volte è veramente sommaro a capire a cosa applicare l'effetto che vogliamo allora noi per farvi capire come si potrebbe fare per modificare solo alcune parti della foto noi diciamo applica questo a solo queste parti della foto più o meno con questo background quindi andiamo e scriviamo blue hair e poi facciamo generate e voilà ragazzi e voilà e voilà dai non è male per fare qualcosa di molto semplice non è male qui ovviamente ragazzi possiamo aumentare la qualità e ci vorrà molto più tempo se aumentiamo la qualità poi cos'altro a dirvi private session possiamo vederle solo noi dobbiamo pagare eccetera però qui ragazzi c'è anche una bella guida learn how to edit con un video youtube di playground però vi fa vedere più o meno quello che vi ho fatto vedere io né più né meno ragazzi giochiamoci vedete che è veramente molto carino questo tool poi facciamo anche edit image possiamo bla bla fare più o meno ragazzi giochiamoci ok prossimo tool il prossimo tool non è proprio un tool ma un qualcosa su già gpt ora voglio in qualche modo farvi capire che già gpt è bellissimo allora io ho creato effettivamente la mia guida che è questa qua ok ve la faccio vedere in cui ci sono effettivamente tutti questi prompt sales page copy pubblicità copy prodotto guardate quanti prompt tutti 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 orientati a dare degli output per marketers e startup ok e ognuno di questi prompt può essere modificato a nostro piacimento oggi ve ne voglio far vedere uno che è molto carino che può essere modificato a proprio piacimento ok che è quello della hero journey chi è che conoscerà hero journey ve lo faccio vedere con una bella infografica che prendiamo sulle immagini tanto ci stanno sempre sulle immagini hero journey allora ogni storia ogni storia ha la stessa struttura ovvero c'è una call to adventures quindi la persona sta tranquilla sta nello status quo immaginiamo adesso il segno degli anelli c'è frodo nella contea che è tranquillissimo poi c'è un call to adventures e chi è il call to adventures è bilbo che gli dice guarda frodo mi sono rotto dell'anello prenditelo tu ok allora c'è una sorta di chiamata all'azione che potrebbe essere gandalf quando gli dice andiamo dagli elfi così che vediamo chi distrugge l'anello qui ci sono challenge and temptation quindi delle sfide delle tentazioni in cui fondamentalmente è tutta la storia che lui deve poi farsi carico dell'anello viene tentato all'anello ci stanno i natskul che lo vogliono uccidere eccetera e poi c'è l'abisso della morte quando va da solo Sam pure lo tradisce va su tutta quella cosa dei ragni eccetera poi c'è il transformation lui che supera i suoi errori c'è l'attortment c'è il fatto che oddio e poi tutto è bello tutto è bellissimo e si ritorna nello status quo prendete qualsiasi storia Harry Potter e segue queste queste fasi allora come si può utilizzare GCPT per utilizzare questi modelli questi framework e creare qualcosa se veniamo su Wikipedia e facciamo Hero Journey ok vediamo che ci sono effettivamente tutte queste varie fasi ok The Call of Adventure Refuse of the Call Super 8 Crossing Feast Threshold eccetera allora diciamo ah c'è GCPT dimmi le varie fasi del percorso dell'eroe attenzione seguitemi qua perché questo è effettivamente molto 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 importante il percorso dell'eroe è scritto a teoria del mito il professor Joseph Campbell comprende i seguenti stati ok adesso ce li scrive tutti quindi io vi sto facendo in questo caso vi sto insegnando una metodologia con il quale potete creare prompt a vostro appecimento con dei framework ok e vediamo appunto come fare sul mio libro ce ne stanno davvero tanti che non sono solo prompt ma sono dei delle metodologie con il quale potete creare altri prompt quindi dai 175 che vedete se appunto acquistate il manuale che è ancora per penso due giorni in offerta al 50% potete creare tantissimi altri prompt ok quindi vediamo vediamo subito ok ritorno il protagonista torna su vita quotidiana bla 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 ok perfetto allora adesso diciamo anche gpt scrivimi scrivimi una storia separando ognuno dei punti dei punti che hai elencato punto la storia parla di un mago che 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 un mago che è stato minacciato da uno stregone e deve sconfiggerlo stregone ovviamente ha messo una R e deve sconfiggerlo boom chiamatemi il mago che vive la sua vita tranquilla nella sua torre diceva una vision una visione della dea della magia che lo avverte una minaccia incombente da parte di un potente stregone rifiuta la chiamata inizialmente il mago è reluttante ad affrontare questa avventura perché teme di non essere abbastanza forte tuttavia quando la visione si ripete il mago accetta la chiamata e parte per affrontare lo stregone incontro con il mentore durante il viaggio il mago incontra un vecchio stregone Gandalf che lo addestra nell'arte della magia e gli fornisce tutte le informazioni necessarie per sconfiggere il nemico attraversamento il confine il mago attraversa un confine per raggiungere il regno del malvagio stregone qui si imbatte in mostre incantesimi potenti ma riesce a superarli grazie alla conoscenza acquisita dal suo mentore prova gli ostacoli il mago affronta numerose prove e ostacoli per avanzare verso il regno dello stregone qui deve affrontare il suo esercito di mostre scontarsi con i suoi incantesimi più potenti il tesoro finalmente il mago sconfigge lo stregone e recupera un antico libro di incantesimi che gli fornisce un potere ancora più grande il mago torna a casa come un eroe con un nuovo livello di abilità e conoscenza che gli permetteranno di proteggere la sua terra per sempre ora con questa mia voce da Gandalf possiamo dire che ci ha creato effettivamente una storia e da qui possiamo dire sviluppami questa parte sviluppami quest'altra parte però quello che voglio che portate a casa non è tanto il prompt del Hero Journey quanti altri framework ci sono del genere quanti altri modelli di storie ci sono ragazzi qui la vostra creatività è effettivamente il limite ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like scrivete un commento e poi se non lo fate altrimenti questo cartino morirà detto questo se siete interessati a 170 prompt per marketing startup eccetera ho il mio manuale in cui racchiudo tutti questi prompt che servono per efficientare tempo e tante altre cose se siete interessati ho creato proprio un video ve lo lascio qua in descrizione andate su una landing page eccetera vedete voi detto questo si vengono che ti off fly ciao a tutti Grazie a tutti.